Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, come va? Spero che state bene, che stai trascorrendo una splendida giornata. In questo video parleremo di Lazio, società che nell'ultime ore si sta mettendo in mostra sul mercato in quanto sembra che molte trattative, nonostante il calciomercato non sia ancora aperto, nonostante il campionato non sia ancora finito ma una volta avuta la certezza e la qualificazione per l'Europa, sembra appunto che Lazio si stia dirigendo a sprombattuto verso l'acquisto di alcuni giocatori. Si è parlato dello scambio, si sta parlando dello scambio tra Rugani e Acerbi, si è parlato di Marcos Antonio però un nome nuovo si sta facendo largo, nell'ambiente bianco celeste, va a dire Victor Ciust classe 2000 del Cadice in prestito dal Real Madrid Castiglia. Prima di tenere la questione e di parappunto del giocatore, mi raccomando, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale, ti fai cambiate le notifiche prima di sempre al giornale sui news, quindi sui video che vado a pubblicare. Questa presentazione però sarà molto sui generis, perché penso che mi trigherò abbastanza. Allora, un 2000, 182 cm, in stagione 25 partite nella Liga con il Cadice, società, squadra che ha concluso la Liga, o meglio, che ad ora ricopre il diciottesimo posto in classifica. E che dirvi, un difensore che ha abituato a giocare a 4, discreta notifisiche, discreta velocità, discreto piede, ma ragazzi è un medium man? Cioè, allora io volevo impostare questo video come presentazione del calciatore, ma dicendovi questa frase, vi dico tutto. Il giocatore è presentato qui. La cosa che mi triggera, i tifosi del Torino che mi seguono sanno quanto io possa andare un po' contro, quanto possa non condividere. Nella filosofia di Cairo, ma ragazzi, Cairo e Lotito viaggiano lì, sullo stesso pianeta. E io dico, Lotito, carissimo mio, tu ti lamenti le proteste laziali, ma contare e elevare amicizie nel calcio, ma tu porti veramente questi giocatori? Cioè, ti se ne vuole Lus Filippi che, per l'amor di Dio, fisicamente non è l'integrità fatta a persona. Probabilmente perderai a Cerbi, un po' in viso alla tifoseria, ma arriverà a Rugani che è un eterno incompiuto. Non stai rinnovando a Patrick. Ma ciust, dove cacchio lo si vuole collocare? Io ho letto la riserva dei titolari, ma i titolari della Lazio, chi cacchio sono? Ma chi sono? Cioè, ma veramente la Lazio, squadra comunque blasonata dalla storia, io ricordo essere un po' agé, Marchegiani, Negro, Nesta, Favalli, Mijalovic, Pancaro, Verona, Almeida, Consesao, Sala, Simoninzaghi, Bocsic, Mancini, no? E tu adesso importi ciust. Ma veramente si vuole fare un Lecchi 2.0? Un Novaretti 2.0? Ma questa è una pura presa in giro totale ai tifosi della Lazio. Una presa in giro totale. E dico presa in giro per non essere volgare. Perché veramente serve una presa per il deretano. Ma veramente si vuole costruire la Lazio così? Porti Romagnoli va benissimo eventualmente, potrebbe starci. Anzi, ci sarebbe sicuramente. Ma poi mi prendi ciust. Un giocatore che ti ha giocato la prima stagione in Liga al Cadice, ora il diciottesimo, dalle doti. C'è un normo dotato, ragazzi. Ciust è un normo dotato. E mi non si vuole veramente portare a Roma? Cioè i tifosi a Lazio criticano Patrick da anni a Roma, ma lui veniva da tre anni da titolare col Barcellona B. Voi mi dite d'accordo, ma stavi nella Liga 2. E questo qui ha fatto un anno di Liga. È vero. Ma giocare al Barcellona B, secondo me, per tre anni da titolare, è dieci volte più formativo che giocare in un Cadice. Neanche da titolare, sempre. un giocatore che è di un medium che è una cosa devastante. Non eccelle in niente. Sì, si può dire che tende a giocare alto, che è un giocatore che pressa, tende ad uscire sui centrocampisti, sugli attacchi, o meglio, tende ad uscire sugli attaccanti, ma è uno che a volte, ragazzi, effetto le spazzate in difesa quando è libero. Ma veramente, ma... Mi sto sforzando di fare questa presentazione. E voi mi dite, Davo, ma stai sbroccando, non stai a fare una presentazione. Ma questa è la presentazione di Ciuste. Immaginatevi, un profilo che a Football Manager ci sono tutti i valori che si aggirano tra il 10 e l'11, il 12. Non eccelle nulla. Ma almeno Patrick dici, va bene, uno che può giocare a tre, può giocare terzino, ultimamente sta giocando come difensore centrale di difesa a quattro. Lui soltanto quel ruolo sa fare. È difensore centrale puro. Io capisco d'accordo i duri costi, però è idiozia pura. È idiozia pura. Dovrebbe venire a zero. Diciamo questo. Però porco mondo, ragazzi, ma Ciuste. Ma mi prendi Mediomen? Ma non ho portato nella primavera, che fa meglio? Non capisco. Un Romagnoli del Brescia, secondo me, farebbe anche meglio. Porco mondo. Ma veramente così ci vogliamo affacciare l'Europa? Ma veramente la Lazio vorrebbe andare in Europa con Ciuste? E poi si lamenta, L'Otito. Fa la voce grossa. I tifosi Lazio protestano. L'Otito impara forse un pochino. Invece di mettere la politica del calcio al top della tua maledetta politica, della tua maledetta gestione, impara a vedere il calcio. Impara a fidarti indiettore sportivo e si sa che Tare è a braccetto con L'Otito. Tare, voce in capitolo zero, gira, magari fa, prende accordi con gli agenti. Ma ragazzi, dai, su. Io lo fisco qui il video perché è veramente queste cose, cioè in un calcio moderno che sta, in un calcio italiano che sta scendendo di qualità clamorosa, tu invece di costruire un settore giovanile, la Lazio ha bianchessi, porco mondo, ha bianchessi che ho la fortuna di conoscere, che ha lavorato al Milan, sono stato più volte a Vismara, con lui Filippo Galli, è un grande bianchessi e tu invece di lavorare su un settore giovanile e mi porti giust, tu prendi in giro la tua tifoseria e se la tua tifoseria protesta, fa anche bene perché la Lazio, società di storia con un allenatore bravo ma comunque anche esigente come Sarri è una presa in giro giusta, una presa in giro che tu fai al calcio e fai ai tuoi tifosi. Ascolto lo sfogo però ragazzi quando vedo queste cose di non meritograzione nel calcio ma di politica e penso anche di amicizia con gli agenti o queste cose qui purtroppo sbarello. Ragazzi fate sapere cosa ne pensate non so che dirvi. Lasciate un like al video se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e fate campanile ci vediamo al prossimo video vi facciamo un abbraccione ciao ragazzi